Ancora un assalto ad un'azienda della comparto Orafo a Retino. Nelle mire dei banditi, questa volta una ditta di via Chiarini. In gente il labottino con il quale i ladri sono scappati potrebbe infatti sfiorare 300.000 euro. È successo nella notte tra martedì e mercoledì. I malviventi prima hanno messo il sistema d'allarme e poi si sono introdotti all'interno passando da una finestra. Una volta dentro sono riusciti ad aprire con un flessibile due delle tre casseforti presenti. Infine si sono dati alla fuga comunili e oggetti d'oro. Ancora da quantificare con precisione l'ammontare del bottino anche se dalle prime stime si aggirerebbe sui 300.000 euro. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Lo scorso 17 luglio a seguito dell'escalation di Alsalt in aziende Orafo e del territorio c'era stato un incontro al Viminale al termine del quale era stato garantito il potenziamento dell'attività investigativa, l'invio ad Arezzo di un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e reparti speciali di polizia e arma dei carabinieri. Il comparto adesso ha chiesto un incontro anche al nuovo prefetto di Arezzo. Per rifare il punto di nuovo su queste famose persone che dovevano arrivare, su questi uomini, su queste guardie, in più a tutela del nostro distretto, del nostro territorio per capire quanti sono e se sono sufficienti. Ovviamente il nostro distretto si caratterizza da questa elevata dispersione nel territorio di queste zone industriali e quindi c'è bisogno di uomini per fare un controllo del territorio, soprattutto la notte.